Uno dei migliori consigli che posso dare come Ardino Scherato, come Yearforex, a tutti i trader che vogliono imparare il metodo della price action o che stanno utilizzando il metodo della price action è quello che sentirete in questo video. Di cosa parleremo? Parleremo delle conferme del multi time frame. Quello che vedete qui, che adesso ingrandisco per voi e così vediamo tutti meglio, è il grafico di euro-dollaro su un time frame weekly, quello a sinistra, e su un time frame daily, quello a destra. Allora, io ho preso tutto l'anno 2023, in realtà potrei andare anche indietro nel tempo e come si può notare il 2023 dell'euro-dollaro, cioè parte l'ultima settimana di dicembre, quindi questa è la prima settimana di gennaio, mostra un trend ascendente. Quindi i prezzi più a rialzo nel favore di euro e quindi vendita di dollari. Questo invece è il grafico daily, che quindi ci mostra la stessa identica cosa, ma con più dettaglio. Allora, la cosa che si deve fare quando si fa trading con la price action è quello di utilizzare questi due time frame come time frame master per fare l'operatività, di cui il grafico weekly è il grafico che ci dà la bussola del mercato, ci dà la view, ci dà la possibilità di fare il piano, ci dà le informazioni più importanti della struttura, quindi il trend, i livelli principali, queste due cose in realtà principalmente. La volatilità, quindi il tipo di movimento forte o meno che c'è stato, gli ultimi swing e poi, per finire, la price action, quindi il trigger. Ma il grafico weekly è, diciamo, la bussola che poi ci permette di andare durante la settimana su grafico giornaliero e da lì trovare dei possibili trigger, dei possibili segnali che fanno, diciamo, capo a quello che era il time frame master, ovvero il weekly. E quindi lì, proprio su grafico daily, trovare le conferme per l'operatività. Quindi, tradare direttamente il weekly non è sbagliato, ma probabilmente è migliore andare a avere la view weekly e poi nel daily trovare le cosiddette conferme di price action. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, se io parto dall'inizio, parto proprio da qui, noteremo, e quindi vado sul daily, vi mostro daily e weekly in modo contemporanea, eccolo qua. Noteremo che il mercato saliva, eravamo già in salita, e che nella settimana, appunto, questa qua, della prima settimana di gennaio, 2 gennaio, c'è stato un movimento verso il basso che ha generato, guardate un po' sul daily, un super mastodontico trigger, questa è una, assolutamente una falsa rottura, guardate, dei minimi precedenti, una falsa rottura dei minimi del pavimento, 1.0580, e ha creato poi un doppio minimo higher close, che è uno dei miei trigger, in linea, vedete, con il grafico weekly, che aveva fatto il movimento, aveva ritracciato ed era ripartito. Il mercato va, 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 e poi troviamo un altro trigger interessante, qui. Questa è una pin bar, che si è venuta a creare proprio sul ritracciamento, e guardate, se io vado a prendere dove eravamo, si vede sul grafico settimanale, vedete, eravamo, e prendo quella prima e quell'altra, vedete, eravamo su questa settimana, ma questa settimana, se voi guardate, poi diventate ribassista, ma inizialmente era una settimana in alzista, quindi questo trigger, alla rottura del massimo, nel movimento, poi gestito, come sappiamo, quindi sugli aumenti di volatilità, con chiusure importanti, si taglia l'operazione, si chiude in serata, o al massimo la mattina successiva, che tra l'altro questa è anche un'operazione che ho fatto, che ho condiviso col Platinum, ecco qua, questo è un altro trigger, che è in linea con la view settimanale. Se poi guardate, il mercato scende, inizia a scendere, e a noi ci dà un'idea, perché poi questa settimana è stata una settimana, diciamo, con una price action bearish, quindi eravamo su una tendenza short e long, ma in quel momento era molto possibile un ritracciamento nei prezzi, perché? Perché si era creata questa pinbar sul weekly. Quindi io nelle due, una, due, tre settimane successive, andrò a scegliere un posizionamento short, che ha come livelli di obiettivo, quali? Principalmente i primi supporti, che sono la media mobile di breve e i minimi precedenti. Se io infatti vado a vedere, guardate, sono create due pinbar molto interessanti, la prima il 9 febbraio e la seconda il 14 febbraio, e se andiamo a vedere, guardate dove sono, se guardiamo il weekly, vedete, mostra esattamente la settimana, in questo caso però in realtà mi ci dà una mano, ecco qua, vedete, sono le due settimane che confermano la view, la view short. Quindi anche qui, multi time frame, in questo caso, seppur il trend weekly era long, nel medio periodo, ma nel breve la struttura poteva portare dei ribassi, e sempre qui il timone, la bussola, il grafico settimanale ci dava questa indicazione, e potevamo provare uno short. C'è stato poi questi due segnali, potremmo identificarli come due segnali, questo qui del 7 di marzo, e quest'altro del 15 di marzo, su cui ho messo una X, perché sono due trigger che, diciamo, sono falliti, no? Il mercato è sceso leggermente, poi è risalito, qui non è neanche andato a triggerare, ma comunque poco importa, un doppio massimo lower, falsa rottura, e comunque è fallito. Ma è fallito, benissimo, ci sta, si potevano anche tradare, ma se noi avessimo fatto uno studio molto più approfondito del settimanale, vedremo che, guardate qua e qua, anche questa. Vedete, questi due setup, se vogliamo, già il primo, guardate dov'era, guardiamo il settimanale dov'era, era qua. Quindi eravamo stati già ad avere una fase di ritracciamento che aveva trovato i minimi, stava un po' ripartendo, perché? Perché il trend dell'euro era long, ed era quindi arrivato sulla base, supporto, tecnico e della media. E poi ancora, ancora qui, 15 di marzo, su, giù, però ancora, vedete dove eravamo? Eravamo su questa cannella qua, quindi lui è sceso, ma eravamo sempre su questo pavimento, su questo supporto di un trend rialzista. Quindi, per carità, sono anche situazioni dove, magari rischiando un po' meno, si può anche vedere in ottica di trading di fare delle scelte che poi vanno anche nell'ottica di un certo tipo di money management. Ma se vogliamo fare proprio la qualità e andare a lavorare esclusivamente con la bussola weekly e il daily che deve confermare, in effetti qui, probabilmente, si poteva pensare che gli short potevano essere un po' aggressivi e si poteva, se no, aspettare il ribasso al di sotto della media, al di sotto del supporto, per poi, allora, andare a shortare su conferme daily. Avete capito? Poi andiamo avanti ancora. C'è un altro, poi il mercato riparte, riparte, e qui ci fa un segnale. Questa qui è una FTV. Guardate dove la fa la FTV. la fa qui, in questa settimana. Quindi lui da qui era partito. Il mio piano, probabilmente, il suo settimanale era long qui, perché il mercato stava ripartendo. Quindi sia qui, su questa FTV, che qui, su quest'altra FTV, il piano poteva essere long, assolutamente. Fintanto che ci sono delle FTV qui, ce n'è una in particolare, questa, anzi solo questa, che, come vedete, può aver generato quel giorno un bel movimento, perché dalla rottura a 1.10.08, siamo andati anche a fare dei massimi a 1.10.80, 1.10.90, voglio dire, sono 80-90 pips di movimento, ma sinceramente, vedendo come eravamo poi posizionati sul weekly, vedete? Qui? Guardate dove eravamo. Eravamo su questa zona, e su questa zona c'era già stato un massimo, un altro massimo, e qua. poteva essere che rompeva, ma era sempre una situazione un po' particolare, quindi, o si fa il trade e si chiude direttamente lì, oppure, insomma, non è proprio, io non l'ho neanche segnato questo, però, ci poteva stare, ma guardando, voglio dire, il weekly, vedete, eravamo arrivati su dei massimi, che creavano, io li chiamo massimi arrotondati, cioè, si arrotondano i massimi, e poi il mercato riscende. Poi ancora, guardiamo bene, da qui il mercato inizia e rompe i minimi, guardiamo da quando arriva questa qua, guardate, arriva nella settimana dopo il sell off, quindi, arriva in questa settimana, questa trigger qua, che è una mini pin inside, di questa mother bar, potremmo anche chiamarla inside take out minore, perché non rompe il massimo dell'outside bar, ma rompe solo il massimo della inside bar, dopo questo movimento dei massimi, in effetti, poteva darci l'idea che un ritracciamento ulteriore, poteva arrivare, e così è stato movimento, ancora. E dopo qui, qui abbiamo un FTV, questa, un po' come quando eravamo qui, arriva un po' in modo, cioè, arriva su un'area, eravamo sotto l'area della media mobile, eravamo anche leggermente sotto i supporti, questa diciamo che si poteva tradare, e in questo caso bisognava stoppare, quando il mercato andava in volatilità a rompere i massimi, e ci sta, insomma, ma non tutte anche le posizioni, che hanno un multi-time frame come analisi, quindi la struttura che dice una cosa, e le conferme su daily, che è il tema, diciamo, di questo video, non sempre danno operazioni positive, ovviamente, ma se noi cerchiamo di far sì che il wiki sia corrispondente al daily, e il daily confermare una situazione, una struttura, ovviamente bisogna conoscere bene come leggere la struttura, che sono cose che noi, comunque, in Airforex cerchiamo di spiegare attraverso i corsi che ci sono all'interno del sito, attraverso l'accademia, per esempio, insomma, i corsi più approfonditi, e cercare quindi di trovare, no, la giusta via per capire come si legge la struttura, però, una volta che si legge la struttura, vi assicuro che è molto più semplice andare a tradare con, con efficienza, diciamo, e con efficacia. Ed ecco poi, alla fine, le ultime tre, sono tutte FTV, questa è la FTV che era qui, quindi il mercato aveva fatto il rialzo, stava poi tracciando, qui ulteriore FTV con falso minimo, e qui addirittura un FTV Reversal, che è ancora in atto, anche se il movimento principale adesso, quello con la grande volatilità l'ha fatto, e da qui già si potrebbe pensare di chiudere, o comunque di gestire lo stop in profitto, e vedete che anche qui avevamo una struttura di un certo tipo, il mercato qui era arrivato sui massimi e sta rientrando, e soprattutto qui eravamo su una fase di tracciamento, che aveva creato un pavimento, e che ha poi creato le strutture di conferma di un ambiente weekly. Io qui potrei tranquillamente andare anche su Sterlina Dollaro, e vedreste simil cose, se io vi faccio vedere la Sterlina Dollaro, su queste due pin bar, prendo questa ma potrei prendere anche l'altra, vi faccio vedere, aspettate che parto da qua, guardate qua, questa pin bar si è mostrata proprio su quei minimi, vedete, si fa vedere sul daily, ecco, dopo quella pin bar lì, tutti i segnali di price action che si sono formati, almeno entro le prime tre settimane, sono utilizzabili nell'ottica di trading, sono utilizzabili perché creano, dalla pin bar, con falsa rottura, questo è anche un inside fake out, creano il movimento. E io anche qui potrei tranquillamente andarvi a prendere l'australiano, che ha avuto tra l'altro una price action molto particolare negli ultimi tempi, anche, vedete, i movimenti di, come dire, di poco, di poco trend o comunque di lateralità, come in questo momento, hanno creato, dalle conferme che ci sono sul weekly, delle poi, delle idee buone sul daily, quindi, voi provate a pensare, oppure, guardate qua, dopo questo movimento, io cosa cercherò? Dopo un doppio massimo lower sul weekly, che va su un livello chiave, io da qui cercherò degli short, e guardate, dopo qui, abbiamo avuto qui, abbiamo avuto qui, e queste, questa è una pin bar, e questa è un FTW Power, entrambe ottime, ovviamente, con la gestione del paracadute, dove non si mette, posiziona lo stop subito sopra i massimi, ma si posiziona sopra, in maniera diversa, con lo stop della candela di volatilità, che crea poi, allora, il presupposto al massimo, per uscire da un mercato, che allora non ne ha più, ma in questo caso no. Quindi io potrei farvi esempi, potrei prendere tutto il mercato del Forex, che è il mercato che io preferisco, è il miglior mercato, a mio avviso, per fare la price action, è quello che mi piace di più, e farvi vedere qualsiasi cosa. Ma poi, se vado su un titolo azionario, o se vado su un indice, vedrete che le cose non cambiano. Quindi, per concludere, diciamo, vorrei dirvi, se volete fare, e volete, fare price action, e volete farlo in maniera, buona, profittevole, efficace, essere, come dire, incisivi, in modo, in modo da aver successo, nell'attività di trading, con la price action, fate sempre, una, buona analisi settimanale, questa buona analisi settimanale, poi deve essere, confermata, dal daily. Quindi, se il weekly, ci sta identificando, una determinata struttura, una determinata price action, poi, sarà nei giorni successivi, che il daily dovrà confermare, e se lo farà, non ci deve essere, la paura di operare, si, lavorerà ovviamente, con una certa gestione del rischio, con degli obiettivi di profitto, e con una gestione attiva della posizione. Vedrete che questo, cambierà i risultati, da bianco a nero. Io, a questo punto, vi saluto, vi auguro, un buon trading simple, ma prima di salutarvi, voglio chiedervi, di lasciare un mi piace, a questo video, e di iscrivervi, a questo canale, se non siete ancora iscritti. Vi saluto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.